C'è una congrega al centro dell'isola. Al suo interno ci sono guerrieri, guaritori, sciamani, persone che possano vedere il mondo dei morti. Radicavano riti pagani molto antichi, tramandati da generazioni. È il destino che ti ha portato sull'isola, la terra alla quale appartieni. Noi siamo i custodi dei segreti degli antichi. Sosti schidati, i risvegliati. Sosti schidati, i risvegliati. Sosti schidati, i risvegliati. Grazie a tutti